Circola lo spettro della variante brasiliana in città, un caso che sarebbe collegato alla cancelleria penale della Tribunale di Arezzo, attualmente chiusa. Da un paio di giorni, infatti, c'è un cartello che annuncia la chiusura della cancelleria a causa Covid e fino a nuove disposizioni. Decisione che era scattata dopo che un addetto proveniente da Perugia era risultato positivo al tampone. Adesso è stata individuata la variante brasiliana. Che ha determinato, da una parte, l'allontanamento immediato della persona soggettata al Covid e, dall'altra parte, la quarantena di tutti coloro che avevano in qualche modo avuto contatti con quella persona. Però non c'è una situazione di allarme così sentita da parte dei colleghi, magistrati. Le udienze penali continuano a essere tenute. C'è un problema di personale per questa ragione. Il paziente attualmente è ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo. Cresce poi la preoccupazione anche a Sansepolcro. 13 contagi nelle ultime ore, collegati anche in questo caso a spostamenti da e verso l'Umbria. Due le persone risultate positive alle varianti, una inglese e una sospetta brasiliana. Entrambi i pazienti si trovano attualmente ricoverati nell'ospedale cittadino. Ovviamente è scattato il tracciamento dei contatti. Della situazione è stato infine già informato il presidente della regione, Eugenio Gianni, che in queste ore sta valutando se e quali misure potrebbero rendersi necessarie. Non sono quindi da escludere parziali lockdown o tamponi di massa sulla popolazione.